Questo video riguarda i migliori 3 inverter per auto. Il vincitore della qualità è il BYBF Inverter Potenza. Inverter di potenza con due prese acquistare 110V, due porte USB, uno presa accendi sigari fornisce un'alimentazione stabile per laptop, console di gioco, TV, iPad, smartphone e altri dispositivi elettronici. Dimensioni Inverter 9,4 x 5,1 x 2,6 pollici, estremamente compatto e portatile, adatto per viaggi in auto, lunghi viaggi, attività all'aperto, emergenze ecc. Convertitore per auto realizzato in ABS resistente al fuoco e guscio metallico, fusibili incorporati, fornisce una protezione completa dei tuoi dispositivi, sul riscaldamento, sovratensione, sovraccarico, cortocircuito. La ventola di raffreddamento prolungherà la durata dell'inverter. Spina per accendi sigari dotata di inverter e cavi di fissaggio della batteria. La presa per accendi sigari generale dell'auto supporta un picco fino a 600W, superiore a quello utilizzato per collegare direttamente la batteria. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Bestec Inverter per auto. L'inverter da 200W da 12W a 220W portatile e multifunzione realizza la tua famiglia e le tue esigenze di viaggio. Alta efficienza di trasformazione maggiore o uguale a 90%. Con 24 mesi di garanzia di qualità. Due porte USB per ricaricare smartphone, pad, tablet, telefoni Android e altri dispositivi alimentati tramite USB. Protezione da sovratemperatura, ingresso a bassa tensione, ingresso ad alta tensione, sovraccarico, cortocircuito e protezione di corrente, senza preoccupazioni per l'elettricità. Questo trasformatore ha un'onda sinusoidale quadrata modificata con funzione soft start per commutazione dolce e morbida. Le stesse dimensioni di un smartphone. Il rumore è più silenzioso rispetto a prodotti simili. Nota bene. Questo inverter non è compatibile con MacBook, non è compatibile con alcuni modelli di portatili di marca Lenovo, Asus. Per qualsiasi domanda, contattaci. Il vincitore del premio è il Generic Potenza Invertitore. Il potente inverter 150W fornisce una corrente continua da 12V a corrente alternata da 230V con due porte USB 2A per la ricarica ed è leggero e portatile. Questo inverter può prevenire cortocircuiti, sovraccarichi, surriscaldamento, bassa tensione e sovratensione, in modo da poter ottenere una protezione di sicurezza durante l'utilizzo. Il nostro design unico di inverter per auto è più scientifico e compatto e migliora notevolmente l'usabilità e la portabilità degli inverter per auto. Questo inverter ti consente di caricare il tuo telefono cellulare, laptop, iPad, tablet e PSP mentre guidi per assicurarti che il tuo viaggio non sia spaventato senza alimentazione. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.